La vostra luce interiore. La voce interiore attraverso Roberta S., Santa Maria delle Mole, 9 dicembre 2008, a cura di VB, guide. La vostra luce interiore è forte e può essere ascoltata dal vostro cuore e dalla vostra intelligenza più vivida. Accorgetevi che voi stessi siete nei vostri cammini, siete nei vostri stessi passi. Accorgetevi che siete voi a vivere nel vostro sguardo e soprattutto accorgetevi di ciò che state facendo e di quello che state vivendo. Accorgetevi del vostro tempo presente, di quello in cui siete adesso, quello in cui vi ritrovate a meditare sulla vostra esistenza, sul bene e sul male, sui vostri percorsi e sui vostri errori. Allora siate presenti nella vostra esistenza in maniera ampia, non soltanto con la vostra mente o con le vostre emozioni, ma con tutto il vostro essere, con quella vostra luce, volta a portare altra luce e a donare agli altri ciò che vibra in voi. La vostra ossessione di dover fare bene, di dover essere, di dover raggiungere, di conquistare, vi rende sempre più egoisti, sempre più attenti a voi stessi, alla vostra vita, intesa come unica soluzione finale del vostro essere. Non è così. La vostra vita è sacra e lo sarà comunque, qualsiasi cosa voi facciate, ma la vostra esistenza può essere gratificata dal vostro comportamento, dal vostro pensiero e dal vostro camminare in armonia con ciò che vi circonda, con la vostra capacità di donare. Continua nei prossimi video.